Il progetto è molto complesso illustrare i principi generali del progetto in pochissimi minuti, essendo un progetto complesso su un'area molto vasta e articolata e con tutta una serie di questioni di grande interesse urbanistico ma di grande complessità da affrontare. Però nel nostro lavoro di sviluppo del masterplan abbiamo cercato di mettere a fuoco alcuni principi chiave, creare forti relazioni con l'intorno, creare una polarità, un magnete di grande interesse in fregio all'autostrada affinché l'area non fosse un'area a fondo cieco ma un'area in cui si entrasse, si entrasse in maniera rapida dall'autostrada per via automobilistica e in maniera lenta dalla città attraverso il parco, attraverso il sistema stradale e dei tessuti edilizi di Cascina Merlata. L'area è stata innervata da un parco che ne è la spina dorsale e che va da via Gallarate fino al centro commerciale in fregio all'autostrada, ripeto. Sul settore est che sul settore ovest sono state organizzate le residenze con al piede funzioni complementari di carattere commerciale e di carattere sociale che accompagnano tutto questo percorso lungo circa 700-800 metri e con la creazione di una serie di isole, di blocchi urbani che presentano una flessibilità tipo morfologica, cosa che ci ha consentito di modificare nel tempo la struttura morfologica dell'impianto urbano di Cascina Merlata pur conservando i principi generali di impianto della città che avevamo prefissato. La porta sud è caratterizzata dalla cascina stessa che è stata destinata a funzioni complementari alla residenza aperte al pubblico e in questo momento è un luogo di grande successo sociale a livello locale. L'ingresso alla spina verde, alla spina dorsale che poi è affiancato e rappresenta nello stesso tempo il settimo raggio verde che irradia la città di Milano e il flesso scolastico, un flesso molto importante per 800 studenti, alunni e studenti dalle elementari alla scuola media. Questa porta è complementare rispetto a quella nord che è quella del centro commerciale che non è soltanto un centro commerciale ma è un centro globale di intrattenimento in quanto è anche multisala, è anche food court, è anche un luogo in cui si vendono generi alimentari per cui a diretto servizio del quartiere. Lo sviluppo del quartiere sta avvenendo per fasi e per lotti e il primo più cospicuo e importante è stato quello del villaggio Expo che ha concentrato una volumetria significativa nel settore nord-ovest di Cascina Merlata e che quindi ha scaricato sotto certi aspetti dal punto di vista volumetrico altri settori dell'impianto urbano. Il tutto sarà molto equilibrato, il tutto sarà fortemente integrato al sistema infrastrutturale locale e generale della città, il tutto sarà attraverso il sistema del verde, del parco e dei giardini che chiuderanno a nord e a sud il cimitero maggiore, tutto sarà fortemente saldato al tessuto preesistente della città.